L'esposizione internazionale giunta alla 65esima edizione torna nel capologo pugliese per il nono anno consecutivo. Sarà il Teatro Margherita di Bari ad ospitare la mostra di fotogiornalismo WordPress Photo Exhibition che si terrà dal 30 settembre al 13 novembre. In attesa della via ufficiale della mostra, venerdì 16 e sabato 7 settembre, nella sala conferenze del Teatro Margherita si svolgerà l'evento aspettando WordPress Photo, due giorni interamente dedicati al fotogiornalismo con ospiti internazionali. Venerdì alle ore 18.30 ci sarà il Talk WordPress Photo dal 1955 ad oggi, racconto della storia attraverso le immagini a cura del fotoreporter di guerra iraniano-francese e di Fulvio Bugani, fotografo bolognese e vincitore di WordPress Photo nel 2015. Sabato poi alle 18, Bugani terrà la Lectio Magistralis dalla Street Photography al Reportage, un viaggio sulla street photography dal dopoguerra d'oggi tramite scatti personali. WordPress Photo Exhibition è organizzata a Bari come ogni anno da Cime, in realtà tra i maggiori pateni europei della WordPress Photo Foundation di Amsterdam, con il sostegno della regione Puglia e del comune di Bari.